Il 2021 vedrà impegnata la macchina amministrativa del comune di Porto San Giorgio a ridisegnare il quadro permanente per gli anni a venire. Nuovi servizi ai cittadini e digitalizzazione sono le proposte già preannunciate. Questa è una delle novità, è uno degli impegni della nostra amministrazione. Insieme ai grandi progetti, penso al Porto, penso a questioni attinenti ai lavori pubblici, riqualificazione delle piazze, della pubblica illuminazione, abbiamo voluto mettere l'attenzione anche sulla digitalizzazione e i nuovi servizi da dare ai nostri cittadini. Perché il comune sia più smart, come si dice adesso, ma sia più a portata di tutti anche da casa, non necessariamente venendo qui, ma anche in ogni momento riuscire a inoltrare pratiche, avere risposte anche senza venire in comune. Anche se ritengo che comunque il rapporto umano anche con i dipendenti sia sempre importante, però inauguriamo una nuova fase, sia per quanto riguarda il commercio, sia per quanto riguarda altri servizi ai cittadini, attraverso delle piattaforme digitali sulle quali stiamo lavorando e abbiamo investito.